Nessun peculato e nessuna prova concreta di altri reati assolti, Stefano Catalano e Valentina Suraci, il giudice, Alfredo Sicuro, ha letto ieri la sentenza che chiude un provvedimento sofferto e complesso che vedeva due funzionari pubblici rispondere di accuse pesanti, accuse che però in sede di giudizio si sono rivelati infondate. Dopo quasi due anni di dibattimento, infatti, i due dirigenti che all'epoca dei fatti erano in servizio presso il comune di Marina di Gioiosa Ionica, sono risultati estrani alle contestazioni mosse dalla procura. Il presunto buco creatosi nelle casse dell'ente non è responsabilità loro, soddisfatti i legali per Valentina Suraci, gli avvocati Giampaolo Catanzariti e Antonio Mazzone, per Stefano Catalano, Riccardo Misaggi. Il collegio di difesa aveva sin dall'inizio evidenziato la totale stranietà alle accuse dei due indagati e per alcuni dei capi di imputazione aveva espresso dubbi sulle modalità di formulazione delle accuse. Gli avvocati Catanzariti, Mazzone e Misaggi hanno portato in aula perizie tecniche che di fatto hanno dimostrato come le somme liquidate a Catalano e alla Suraci non erano assolutamente indebite e non dovute e anzi erano previste dalla legge. Un quadro, quello presentato dalla difesa, che eliminava quasi ogni dubbio sull'ipotesi di reato di peculato, l'indagine su Stefano Catalano e sulla Valentina Suraci, era partita da un esposto presentato dall'ex primo cittadino di Marina di Gioiosa Ionica Roccofemia, che sostenuto dalle convinzioni dei suoi funzionari, aveva rilevato un ammanco di somme dalle casse del comune e avevano attribuito il buco ad una gestione poco chiara di alcuni funzionari poi indicati in Stefano Catalano e Valentina Suraci. Intorno alle ore 13 di ieri, la lettura da parte del giudice Alfredo Sicuro della sentenza che dovrebbe chiudere un caso che per anni ha tenuto banco nelle croniche giudiziarie. Grazie a tutti.